Nella fase totalmente tattica, perché vede, il meccanismo non è quello della consultazione delle delegazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica, non stiamo formando una maggioranza di governo dove la consultazione è naturalmente la prassi naturale tra le forze politiche. Il metodo sulla elezione del Presidente della Repubblica è altro. Il partito di maggioranza relativa deve trovarsi uniti su di un nome e lasciare al segretario politico le consultazioni personali e riservate su quel nome con gli altri partiti. Che cosa diversa dalla consultazione della delegazione. Non so chi di voi ha detto, forse Berenzi, poi Renzi probabilmente nessuno di questi tre nomi li avrà presenti perché in realtà il rischio vero è che Renzi pensa di eleggere, cioè non tenta neanche di eleggere un Presidente a larga maggioranza, perché se avesse tentato di eleggere a larga maggioranza avrebbe tentato di eleggerlo alla prima votazione come fu il caso di Cossiglia e come fu il caso di Ciampi. Perché in quel caso il segretario politico, una volta dall'ADC e poi del... non mi ricordo come si chiamava... DS... all'epoca una parte del Partito Democratico, scelsero unitariamente un nome e poi questo nome nella riservatezza ne parlarono gli altri partiti. Era questo, è questo il metodo. Ma è stato un po' teatrino quello di ieri, secondo lei, a Nazareno. Beh, io non voglio mai utilizzare quello. No, non lo dico io, lo ho detto io questo. È una cosa per perdere i tre giorni, ragazzi. Però adesso abbiamo... È sabato mattina. ...che non è proprio facilmente... Manrile è fuori ormai da tempo. No, dico per eleggerlo nelle prime tre votazioni. Bisognava coinvolgere anche Grillo, ma Grillo lo ha dichiarato, quindi non è una... Appunto, dicono che non sarebbero bastati i voti dei due terzi. Beh, ma Grillo non è un terzo del Parlamento. Grillo non è un terzo del Parlamento. Beh, insomma c'è anche la Lega. Eh beh, ma voglio dire... SEL. Ma ho capito, il tentativo da fare... I franchi tiratori di votazione. Ma certo, i franchi tiratori ci stanno. Quando all'ultimo momento arriva due ore prima di votare, e arriva il nome. E allora questo addirittura si fa una operazione perché dà per scontato che la minoranza dei democratici non vota, dà per scontato che la minoranza di Forza Italia non vota e quindi si mette al riparo. E' vero perché una cosa non può fare Renzi, avendola fatta lui. E' una... Non dico che è una notizia, ma insomma... E' un ragionamento molto sereno. Cioè, non vuole, non può essere sconfitto alla quarta votazione. Eh, questo è visto. Come fece invece con Bersani, che fu il, come dire, il punto di crisi della segreteria Bersani che si dimise. Eh sì, e poi si dimise. Quindi questo non lo può fare. E allora naturalmente esclude il discorso della maggioranza più ampia. non dà nessun nome, lo dà alla fine sapendo che può calcolare la presenza di larga parte del Partito Democratico, degli alleati di governo con l'aggiunta di molti fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle e da una parte di Forza Italia. Quindi dobbiamo aspettare. Quindi diciamolo terrà coperto fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Grazie.